Timo con la velocità di social media. Breaking News 11.27 minuti, 27 secondi, è morto Sergio Marchione, l'annuncio pochi secondi fa. L'ex AD della FCA era ricoverato da giorni a Zurigo, era stato ricoverato esattamente il 28 giugno per un intervento. Sabato scorso i consigli di amministrazione avevano nominato il suo successore. Dunque, 66 anni compiuti a giugno, morto all'ospedale universitario di Zurigo. La sua ultima uscita pubblica era stata due giorni prima a Roma, due giorni prima del 25 giugno, la consegna di una gip all'arma dei carabinieri. Era già affaticato, chi l'aveva visto quel giorno ricorda che parlava con molta difficoltà. È stato il suo ultimo saluto per molti aspetti simbolico la chiusura del cerchio di un'esperienza umana e professionale. Naturalmente in tutte le edizioni delle prossime edizioni di giornale e radio e anche nei programmi continueremo a mandare avanti questa notizia. La morte dunque confermata di Sergio Marchione. Grazie.